Oggi vediamo come è possibile andare a dividere una stringa in più sottoparti divise da un punto e virgola, quindi un carattere separatore, un'operazione che capita spesso di dover fare. Oggi la vedremo con il serial monitor ma solitamente in questo sistema viene utilizzato per trasmettere delle sequenze di dati con vari metodi. Iniziamo subito. Oggi vediamo come andare a suddividere una stringa suddivisa da dei punti virgola. Realizzeremo un circuito semplice semplice con arduino a cui andremo a collegare un led rgb questo ci serve come pretesto per poter dare un senso al codice che andremo a scrivere. Quindi avremo il nostro led rgb collegato con tre resistenze, tre resistori li ho messi da 390 e ho poi il led rgb il mio dovrebbe essere a catodo comune quindi una cosa del genere. Questo è un componente unico. A seconda del modello potreste avere un oggetto del genere quindi con una parte centrale un po più grande che questo qui è il nostro catodo e poi i tre anodi per i tre colori messi di solito in questo modo. Comunque controllate anche voi. Questi vanno collegati ai pin 3, 5 e 6 di un arduino. Uso i 3, 5 e 6 perché devono essere pvm perché andrò a dare indicazioni con una stringa delle tre componenti di colore per settare il colore del led. Invieremo tramite serial monitor una stringa contenente i tre colori per i tre canali quindi avrò per esempio 123,12,200, poi metto anche un messaggio per esempio hello, quindi noi trasmetteremo questa stringa. Voglio fare in modo che non appena la ricevo la vado a dividere in quattro pezzi tirando fuori le varie informazioni quindi interpretando i tre primi elementi come interi e l'ultimo come una stringa poi potete eventualmente modificarlo completarlo come preferite. Userò due puntatori che chiamerò m e n. n mi va a individuare il punto e virgola mentre m trova l'inizio della stringa che dobbiamo estrarre. Questa stringa si chiama in realtà usando le funzioni di string substring a volte viene anche chiamato il token e useremo quindi due funzioni la substring per estrarre una parte della stringa. La substring ha bisogno delle due posizioni quindi mi tira fuori la parte di stringa compresa tra m e n. La seconda funzione che ci serve è quella per individuare il punto e virgola e qua useremo index of. Index of la stringa che voglio cercare quindi il punto e virgola, queste sono delle virgolette e il punto da cui parto inizialmente partiremo per esempio da zero. In questo modo vado a ricavare la posizione di n. Vediamo come scrivere il codice e come accendere il led. Partiamo dallo sketch vuoto di arduino creiamo tre variabili rgb in cui inseriremo i valori che andrò a recuperare dalla stringa che invio. Crea una stringa anche msg con il messaggio ricevuto. Nel setup mettiamo solo la serial.begin9006 per parlare con il serial monitor. Nel loop andrò a preparare la parte per la ricezione dei caratteri quindi se vi ricordate come si fa l'abbiamo fatto ormai tante volte uso un if qui dentro vado a vedere se dalla seriale ho qualcosa quindi faccio serial.available. Se mi arriva qualcosa allora la estraggo. Abbiamo vari metodi. Qua possiamo farci passare direttamente tutto quello che arriva in una stringa che chiamiamo line. possiamo usare quindi serial.readstringuntil. Qui dentro mettiamo un carattere il carattere attenzione ho messo le apicini singoli non quelli doppi perché sto indicando un carattere il carattere che ci interessano è il slash n perché alla fine della comunicazione seriale quindi quando io scrivo questa stringa nel serial monitor e premo invio qui in fondo viene anche messo slash n per indicare ad arduino o comunque alla seriale che la trasmissione dei dati è completata quindi la linea è terminata. Questo ci estrae la linea. Qui facciamo un controllo per vedere se la linea contiene dei caratteri quindi faremo line.length maggiore di 0 quindi se questo è maggiore di 0 vuol dire che c'è dentro qualcosa mettiamo le graffe ci metteremo a lavorare qua. Qui potrei anche stamparla sul serial monitor per avere un'indicazione e capire se effettivamente accade qualcosa o se ricevo la linea. Ci fidiamo vado a creare gli indici di cui parlavamo prima quindi un m che è l'indice iniziale la prima volta sarà pari a 0 perché è all'inizio della nostra linea e ci serve poi il secondo indice n che vado a posizionare dove c'è il primo punto e virgola. Come faccio a trovare il primo punto e virgola? Facciamo line.indexoff e quindi mettiamo il punto e virgola. Questo cerca una stringa all'interno di un'altra stringa. Se adesso facessi una cosa del genere faccio string faccio token qui faccio line.substring dnm. Questo punto se io nel nostro caso passassi questa stringa abbiamo m che punta all'inizio quindi sarà 0 e ne coinciderà con la posizione del punto e virgola e substring mi tira fuori esattamente 123. Questo funziona per la prima volta dobbiamo far sì che si possa ripetere anche altre volte per tirar fuori tutte le occorrenze. Io qua non ho messo controlli quindi lo faccio in modo scemo poi eventualmente potete intervenire voi modificando il tutto. Come faccio a calcolare il successivo passo? Se questa qui è la mia stringa che ho tirato fuori il passo successivo devo aggiornare i puntatori quindi m puntava nella posizione 0 devo portarlo alla posizione di n più 1 quindi m andrà in n più 1 poi ho bisogno che ne vado a puntare al successivo punto e virgola quindi farò line punto index of dico cerchami il punto e virgola però dico di partire aggiungendo secondo parametro della posizione n più 1 quindi non partire più da 0 questo mi fornisce i successivi indici o devo ripetere questa operazione più volte o mi serve un contatore così posso poi capire quale token sto elaborando lo chiamo indice lo metto uguale a 0 per ripetere la cosa più volte uso un while quindi faccio while qui dirò n maggiore di 1 metto la graffa spostiamo il token lo indentiamo e anche il calcolo dei due indici scusate non è 1 ma n maggiore di 0 perché vado avanti finché n è maggiore di 0 perché nell'ultima posizione arrivato sull'ultimo token quando vado a cercare il punto e virgola non ne ho più e questa funzione mi ritorna meno 1 e quindi terminerò il while qua sto estraendo i vari token a questo punto li elaboro qua potete fare quello che volete io se ne passassi 100 questi vengono elaborati tutte 100 noi ce ne servono solo 4 per questo esercizio aggiungete voi i controlli necessari intanto mettiamo un indice più più che mi serve per capire quale token sto elaborando il primo varrà 0 e qua per elaborarli qui crea una funzione process token in cui passo indice e il token che ho estratto andiamo a creare questa funzione mi metto in fondo diciamo void process token due graffe metto int i e string str i è il contatore ed str è il token vero e proprio qua li elaboriamo con uno switch quindi faccio switch di i apq di graffa e abbiamo i quattro casi perché prevediamo di elaborare solo quattro token quindi facciamo break la prima stringa che ricevo contiene per me un intero quindi la metto dentro la variabile r basta fare str punto tu int quindi il nostro 123 che sono i caratteri 1 2 3 viene interpretato e trasformato in un numero il numero è salvato nella variabile r copio questo codice altre quattro volte mettiamo case 1 qui avrò g e invece per il case 2 avremo il b o poi il case 3 quindi la quarta stringa qui abbiamo semplicemente una stringa che vado a mettere dentro msg farò semplicemente così dopo aver ricevuto e convertito le stringhe vado ad applicarle crea una seconda funzione la chiamo set rgb per pulizia mi sposto in fondo al codice faccio void set rgb non gli passo parametri perché le variabili si le trova già questa farà alla serie al punto print ln del messaggio ricevuto e poi mi va a scrivere anzi mi va a impostare i valori sui pin quindi analog write 3 con il valore contenuto dentro r ricopio altre due volte mettiamo pin 5 pin 6 g e b questi sono pin pvm quindi non serve dichiararli nel setup come uscite compiliamo carichiamo e vediamo se funziona digitando delle stringhe sul serial monitor dovreste vedere il led prendere i vari colori oggi abbiamo visto come fare a fette una stringa con le funzioni che mette a disposizione arduino e abbiamo controllato un led rgb potete usare questo sistema per trasmettere dei dati quindi creare delle specie di pacchetti informazioni che viaggiano tra due sistemi quindi un server e un client oppure due semplici terminali che scambiano dati tra di loro bene spero sia tutto chiaro vi saluto vi ringrazio ci vediamo domani ciao